bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite vedremo degli aggiornamenti fatti nei file di gioco riguardanti delle modifiche i tornei vedremo anche il nuovo piccone che dovrebbe essere arrivato oggi nello shop ma parleremo anche di qualcosa di molto molto interessante prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul video delle 13 e 30 ma andiamo appunto a vedere alcuni degli argomenti di oggi tra cui anche la patch 12.30 sì perché ormai è programmata sta per arrivare qualcosa sappiamo ne approfondiremo durante il video prima però la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi molto molto curiosa ma te preferisci l'elicottero oppure l'aeroplano sono due velivoli di fortnite che hanno praticamente cambiato notevolmente il gameplay uno perché anche sparava ed era molto più veloce l'altro perché avevamo bisogno di qualcosa che ci facesse muovere se io dovessi votare voto l'aeroplano mi piaceva di più boh era più maneggevole sparavo facevi le cose io vado per l'aereo dimmi qua invece il tuo preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere appunto un tweet importantissimo che ci dice la patch 12.30 è stata aggiunta nei test presenti nei server tra virgolette privati in game vuol dire appunto quelle partite che sono riservate solamente agli sviluppatori di epic games questo vuol dire appunto che al 99 per cento delle probabilità sarà disponibile settimana prossima la cosa un po particolare è che dovrebbe essere confermata per il primo aprile mercoledì primo aprile vi dico una cosa ora io non so da quanto tempo voi giochiate a fortnite ma io ho già vissuto due aprili con fortnite e con le patch ragazzi preparatevi al troll da parte di epic games perché anche l'anno scorso avevano proprio twittato ufficialmente nella loro pagina che usciva la renegade raider oppure hanno twittato ritornare con expert ragazzi vi prenderanno in giro io devo dire una cosa parlando seriamente mi auguro non lo facciano perché come avevo già detto qualche video fa c'è poco da prendere in giro e da scherzare in questo momento quindi se doveste leggere qualche tweet particolare di epic games non vi spaventate potrebbe semplicemente essere un troll ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento di oggi e questo arriva invece direttamente da benjifish e l'aveva fatto un po di giorni fa poi non ve l'avevo più detto praticamente benjifish ci ricorda che hanno aumentato eppure di brutto il premio per il vincitore delle solo cash cup che è stato portato a un totale di 5000 dollari e porca miseria per essere comunque un torneo che ci può stare nel senso ma non è che è organizzato è tutto virtuale e ce n'è più di uno tanta tanta roba quindi ragazzi aumenta il monte premio iniziale sicuramente una buona notizia purtroppo non per noi italiani però una cosa molto interessante e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché vi ricordo ieri sono uscite le sfide di deadpool la sesta settimana di sfide ho pubblicato ovviamente sul canale la soluzione per trovare il pennarello nero di deadpool che vi ricordo si trova nella lobby dove ci sono gli agenti nella sezione di brutus alla destra sul tavolo una volta che abbiamo preso il pennarello dovremo recarci in game e interagire con i poster che sono presenti su alcune case i poster quelli degli spettri dove c'è proprio il logo dove c'è il midas oppure il poster delle ombre dove c'è il logo ci avviciniamo interagiamo una volta interagiti con tre poster otterremo la copertura di deadpool che anche qua un bellissimo regalo gratuito non ci fa assolutamente schifo ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché ci sono delle informazioni riguardanti una possibile 14 giorni estiva che cos'è la 14 giorni estiva è quella che hanno fatto anche l'anno scorso vi ricordate durante il periodo estivo il team di epic games rimane fermo per due settimane ma durante queste due settimane ogni giorno viene proposta una sfida che da un premio l'anno scorso erano mi ricordo il piccone doppio con il forcone lì quello per la grigliate la paperella di gomma con la papera gigante in giro per la mappa standardi coperture molto bella copertura estiva quest'anno ragazzi stanno già preparando qualche cosa voglio farvi vedere un video perché è molto curioso il deltaplano che potrebbero regalarci e come avete visto ragazzi è proprio una tavola da surf quindi non avrebbe senso che arriverà questa tavola da surf in questi in questo periodo è molto probabile che faccia parte appunto dei premi quindi tanta tanta roba una nuova curiosità che è bene che voi sappiate e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi curiosità su deadpool è apparsa questa immagine praticamente qualcuno è riuscito a utilizzare la telecamera a prendere immagine diciamo con un grand'angolo di quella che ci fa vedere una volta che entriamo nel ripostiglio di deadpool e lui è appeso ai tubi dove si vede appunto nell'animazione che sta perdendo acqua quindi anche qua una nota molto comica riguardante deadpool che vi ricordo dovrebbe arrivare prestissimo addirittura potrebbe essere settimana prossima all'arrivo finalmente della skin e devo dire ragazzi che una skin regalata beh beh fate vobis tanta tanta roba ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento di oggi ed è una curiosità adesso questo video è registrato prima dello shop del 28 marzo però nei file di gioco sono presenti ovviamente degli oggetti che mancano per completare il set carpa assassina il pack da 9 euro e 99 che è uscito due o tre giorni fa insomma il pesce secco nella versione agente segreto e la cosa molto interessante è proprio il suo piccone che sono due pesci anche questi abbiamo uno spezzone perché molto molto carina ragazzi l'animazione ve la faccio vedere è veramente molto molto ignorante perché sono i pesci che vanno a destra e a sinistra piccone che comunque per chi ha preso il set non può mancare secondo me 800 v bucks 500 potrebbe essere di rarità rara visto così però davvero molto divertente lo voglio voglio perché ignorante e lo voglio ma andiamo avanti ragazzi prima di salutarci con l'ultimo argomento di oggi e volevo proprio ricordarvi una cosa purtroppo è stato rimosso o semplicemente criptato non lo sappiamo il backpack che vi avevo di cui vi avevo parlato due o tre aggiornamenti fa praticamente il backpack che ha la stessa funzionalità di quello del brutus cosa vuol dire quando voi utilizzate il set di brutus e avete il suo backpack e il suo piccone il suo doppio piccone se imbracciate un'arma noterete che il piccone viene automaticamente inserito nel backpack e la voce di registro di cui vi sto parlando adesso praticamente parlava della possibilità di avere con qualsiasi zaino o solo con uno zaino particolare la possibilità di avere il nostro piccone sulla schiena mentre stiamo sparando o comunque mentre stiamo imbracciando un fucile è un peccato che lo abbiano rimosso io mi auguro in realtà che lo abbiano semplicemente criptato e che possa arrivare perché è veramente una piccolezza che però molti giocatori stanno aspettando e che ci farebbe sicuramente molto piacere insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola con la cash cup in coppia ciao